Ora il volley, vittoria casalinga per la Sirsafety Perugia contro Monza al Palevangelisti. Ieri sera vediamo le immagini nel servizio di Massimo Angeletti. Con un secco 3-0 la Sirsafety Conad liquida la pratica della G-Group Monza, un risultato che dice meno di quello che dovrebbe, visto che il secondo set si è chiuso col punteggio di 35-33 in favore degli Umbri, mostrando una squadra lombarda molto combattiva che però non ha mai trovato il ritmo e quindi la continuità per far valere le proprie doti tecniche, cosa che invece è riuscita a trovare la squadra allenata da Castellani. Anzi, a differenza delle altre partite, la Sirsafety ha cominciato bene con il piglio e la concentrazione giusta. I momenti di maggiore sofferenza per gli Umbri si registrano nel secondo set, ma a dare una svolta all'ingresso di Caliberda che azzecca le giocate giuste al momento giusto e trova in Tanasiewicz l'esecutore perfetto per chiudere il set lunghissimo. Per lui, miglior realizzatore, 15 punti chiusi, tutta la squadra è comunque sembrata in condizione fisica migliore. L'attiva per i Block Devils è considerata anche la partita di Coppa. Il prossimo impegno sarà ancora Casalingo contro Molfetta, in attesa del big match contro Modena il 6 dicembre.